Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come forse qualcuno di voi ricorderà, abbiamo trattato la questione del caso di Chico Forti, dell'italiano che è stato arrestato nel 2000 per un omicidio in Florida negli Stati Uniti ed è stato condannato all'ergastro. Come forse qualcuno di voi sanno è stato espatriato, è tornato in Italia nel mese di maggio e noi abbiamo parlato con la bravissima Sabina Castelfranco e con l'onzio di Chico Forti di questo caso abbastanza molto controverso. Quando abbiamo deciso di organizzare questo incontro, noi naturalmente non sapevamo, e questo era accaduto nel mese di marzo, tra marzo e aprile, non sapevamo di tutto quello che sarebbe accaduto dopo. Cioè che il nostro primo ministro andasse addirittura ad accoglierlo all'aeroporto, come si fa con i grandi capi di Stato e soprattutto non sapevamo della vicenda ultima di qualche giorno fa. Cioè che cosa è accaduto? Fondamentalmente è accaduto che la procura di Verona ha aperto un fascicolo su una questione abbastanza delicata. Cioè un detenuto del carcere denonese nel quale è in prigione anche Forti, ha detto ai magistrati che Forti gli avrebbe chiesto l'intervento dell'andrangheta per sistemare, tra virgolette, il direttore del fatto Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli. E' una terza persona di cui non si sa il nome. Naturalmente tutto è al vaglio dei magistrati, al momento non c'è ancora l'ipotesi di reato, però è giusto dare il nostro più sentito e caloroso supporto a Marco Travaglio e a Selvaggia Lucarelli. E' tutto qua, penso fosse doveroso fare questa precisazione prima di passare ai nostri ospiti. Dunque, alla mia destra abbiamo l'ambasciatrice Elena Basile, che è uno dei personaggi della resistenza, chiamiamola così, della resistenza cognitiva, della resistenza dell'informazione che in questa fase è forse tra i più controversi, soprattutto per quello che riguarda i media mainstream. Spesso ci fornisce delle analisi che ci fanno riflettere, ci fornisce degli spunti che ci consentono di andare oltre quella che è la narrazione dominante. L'ambasciatrice è entrata nella carriera diplomatica giovanissima nel 1985, è stata funzionario vicario dell'ambasciata d'Italia in Madagascar, in Ungheria, a Portogallo, è stata console a Toronto, dal 2013 al 2021 è stata ambasciatrice, prima in Svezia e poi un compito molto molto delicato quando è stata il capo della nostra diplomazia in Belgio. Ed è la prima volta, se non sbaglio, che un'ambasciatrice donna guidava la nostra ambasciata a Bruxelles. Però nel 2023 ha dato le dimissioni dagli incarichi diplomatici per incompatibilità tra i suoi principi morali e gli obiettivi della politica estera italiana. Ho detto bene? L'ambasciatrice ha scritto un libro, che è questo che vedete qui, L'Occidente è il nemico permanente, naturalmente lo vedete anche lì in vendita, alla fine se vorrete acquistarlo l'ambasciatrice sarà più che felice di scrivere ventunale. L'altro ospite è un amico, un collega, Murad Roighi, è un giornalista che scrive per la stampa algerina, ma scrive per diversi media internazionali, è un collega della stampa estera, è un socio della stampa estera e un profondo conoscitore dell'attuale realtà geopolitica e geostrategica. Per cui con loro veramente stasera avrò l'onore di fare un'oretta per parlare di geopolitica, prendendo come pretesto il libro dell'ambasciatrice, un libro estremamente interessante. Prima di parlare del libro vorrei che in un minuto a testa, proprio in una pillola, ci raccontaste di qual è la situazione a livello internazionale. In un minuto quali sono i quadranti, secondo voi, che in questa fase sono quelli più a rischio, quelli più incandescenti? Prego, l'ambasciatrice. Buonasera, grazie per questo invito. A me fa sempre piacere quando vedo persone che invece di andare a cena in una bella serata d'estate manifestano interesse per la politica internazionale, perché mai come oggi la politica internazionale rappresenta un rischio per noi, per i nostri figli e nipoti. Il mondo si sta dividendo in due blocchi, armati l'uno contro l'altro. Lo vedete, se ne sente parlare in tutto il mondo politico-mediatico, è la cosa che ci sgomenta e che di solito se ne parla invogliando la società civile a sostenere questa divisione e quindi sostenere lo scontro contro la Russia, lo scontro in Medio Oriente, perché Israele deve difendersi e deve difendersi allargando addirittura il conflitto e la carneficina che c'è a Gaza. Anche in Cisjordania dopo il 7 ottobre sono stati uccisi 400 palestinesi, solo dopo il 7 ottobre. Ma poi come sapete c'è il rischio di allargamento al Libano, sono stati bombardamenti alla Siria, alle milizie sciite in Siria e questo senza che ci fosse stato, ci fanno sempre credere che si tratta di reazioni a bombardamenti siriani e c'è il pericolo dell'Iran. Quindi abbiamo un Medio Oriente infuocato dove abbiamo l'Iran, l'Iran che ha completato il programma di riarmo ed è non è più l'Iran di un tempo, è l'Iran che attacca Israele per la prima volta direttamente. Questo veramente come reazione, perché lo sappiamo bene, c'era stato un attacco all'ambasciata israeliana a Damasco, quindi abbiamo la possibilità di una conflagrazione in Medio Oriente dove sicuramente c'è il rischio anche lì di un conflitto nucleare perché l'Iran è fortemente legato alla Russia e alla Cina, potenze nucleari. E poi abbiamo la frontiera orientale dell'Europa che sapete ormai è instabile, il conflitto può scoppiare con la Russia anche se forse l'intento è quello di una guerra a bassa intensità. Però ci ritorneremo dopo, la possibilità di un conflitto nucleare, di un'escalation imprevista è sempre lì. Ma poi abbiamo i Balcani, nei Balcani la situazione è ancora difficile, purtroppo la pace di Dayton non ha costituito una soluzione e purtroppo ci sono delle provocazioni dall'una e dall'altra parte che ci fanno temere il peggio. Abbiamo l'Africa, il Sahel abbiamo visto che cosa è successo, la Francia ha dovuto lasciare, dicono che è stata la Russia a scalzare la Francia, no a me sembra che si sia scalzata da sola. La Francia perché ha portato avanti politiche neocolonialiste e quindi l'emergere di potenze differenti come la Cina e la Russia ha fatto sì che molti paesi africani scegliessero nuovi partner. Ma c'è il Sudan naturalmente, però non voglio levare troppo spazio al mio collega e quindi lascio a lui la parola. Grazie per questo invito, grazie Max, sono onorato di partecipare a questa serata con l'ambasciatrice Elena Basile, grazie Marco. In un minuto sarò dicendo che il mondo che ha appena descritto giustamente l'ambasciatrice Basile trattiene il fiato e aspetta Trump, tutti aspettano Trump perché siamo a luglio, le elezioni americane sono a novembre, probabilmente vincerà Trump anche perché il suo avversario purtroppo non versa in ottime condizioni e poi c'è poco tempo per i democratici per trovare un candidato adatto. Il mondo è in continua evoluzione, l'abbiamo visto ieri in Francia dove alla grande sorpresa ha vinto un partito che si chiama Le Front Populaire che comunque è contrario alla guerra, contrario alla liberalizzazione dell'economia, ha un programma che si direbbe rivoluzionario rispetto a quello che viene programmato da Bruxelles e da Washington e il popolo francese ha regalato questa sorpresa, sorpresa ovviamente facilitata dal sistema elettorale al doppio turno che ha visto una specie di sbarramento contro la Le Pen, Le Pen che negli ultimi giorni ha smarrito il programma di 52 anni di Front Nazionale e di Rassemblement Nazionale ha promesso tutto e il contrario di tutto. Questo vuol dire che in un paese importante come la Francia, famoso motore franco tedesco che guida l'Europa, non è tutto perso, ci sono forme di resistenza alla scelta che qualcuno pensa ineluttabile di un ricorso a un conflitto sia in Ucraina sia un allargamento, come diceva prima l'ambasciatrice, della carneficina che è in corso in Palestina. Quindi tutti i principali attori, sia Vladimir Putin che i leader europei, aspettano il nuovo volto della diplomazia americana con Trump e quindi anziché non diremo aspettando Godot, io dico aspettando Trump. E in bocca all'uomo a tutti noi. Il libro dell'ambasciatrice a Basile è davvero un bel libro. Io ho avuto qualche giorno di tempo per leggerlo, è un libro che affronta fondamentalmente quattro temi principali, il conflitto tra Russia e Ucraina, il conflitto tra Israele e Palestina. L'ambasciatrice fa un'analisi di come i media ci rappresentano la guerra e quello che è più impegnativo è quello che dà una rappresentazione della transizione che stiamo vivendo da un mondo unipolare, da un mondo che è nato fondamentalmente sulle ceneri dell'Unione Sovietica e che da 30 anni vede una guida del paese egemone degli Stati Uniti, questo passaggio da un mondo unipolare a un mondo multipolare, a un mondo policentrico. BRICS, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, l'Unione Eurasiatica, la Road and Belt Initiative o Via della Seta, Questi sono tutti progetti che prevedono uno spostamento del focus da quella che era una gestione unipolare fondamentalmente a un mondo in cui paesi che per decenni sono stati chiamati paesi in via di sviluppo tentano di emanciparsi e di non essere più chiamati in quel modo lì, cioè di essere chiamati paesi sviluppati. Io volevo chiedere all'ambasciatrice, vorrei partire dall'ultimo capitolo, vorrei partire dalla fine del libro, quindi dall'ultimo capitolo, e chiederle se gli Stati Uniti si erano proposti come leader del mondo e del commercio libero, delle istituzioni multilaterali e il mondo delle regole. Le chiedo, sono state rispettate quelle regole? Che cosa è avvenuto dalla crisi finanziaria del 2008? Forse quello è uno dei primi turning point, dei primi punti di svolta. E soprattutto, che ruolo hanno in tutto ciò i neoconservatori? Magari se ci può spiegare anche chi sono i neoconservatori americani e come tornano in auge, che impatto hanno sulle nostre vite, perché stanno avendo un impatto enorme, decisivo, sulle vite di noi europei. Grazie. In effetti in questa quarta parte del libro io mi occupo sia dei fattori economici, dei fattori geopolitici, ma anche dei fattori culturali che determinano il modo di porsi dell'Occidente. E quindi ritorno al titolo, l'Occidente è il nemico permanente. L'Occidente ha bisogno di fare queste guerre. E guardiamo al problema di carattere economico. Io parto addirittura dal secondo dopoguerra, per chi vuole approfondire. Fino al 1971 c'è stata un'età dell'oro, lo sapete, avevamo i cambi fissi e avevamo una potenza egemone, gli Stati Uniti, che avevano fatto il piano Marshall, non avevano deficit. Dopo il 1971, nel momento in cui il dollaro viene sganciato dall'oro, cambia tutto. Iniziano i cambi fissibili e c'è questa anomalia. Voi lo sapete, noi viviamo in un impero, l'impero occidentale, lo dicono del resto gli stessi americani, noi siamo la potenza indispensabile, la potenza egemone. Bene, è rarissimo, nella storia non c'è mai stata, una potenza che ha un deficit e un debito stratosferico, come quello che gli Stati Uniti sono stati in grado di accumulare. Allora, questo sistema si leggeva sul fatto che gli Stati Uniti riciclavano il surplus dei paesi asiatici, che significa riciclavano il surplus. Loro compravano i beni asiatici, anche europei, e siccome il dollaro è la moneta fondamentale del sistema monetario internazionale, la Cina, ma anche l'Europa, nonostante l'euro, rimandavano flussi di dollari negli Stati Uniti, cioè i loro profitti, per investirli nel settore terziario, assicurazioni, eccetera. E questo sistema permetteva agli Stati Uniti di mantenere i livelli di debito e di deficit. Che cosa succede dopo il 2008, come dice giustamente Max? Succede che sia una prima crisi del debito, ve lo ricordate Obama parlava di regolamentare i flussi di capitali, non se ne fece nulla. Questa crisi del debito, un debito impazzito, vi do semplicemente una piccola cifra. Nel 1971, l'ultimo anno di Bretton Woods, il debito americano era 35% del PIL. Oggi è 135% del PIL. Pensate come è cresciuto. Ma gli Stati Uniti hanno la capacità di emettere moneta, quindi per loro il debito non rappresenta un problema come per l'Italia. L'Italia pure ha un debito stratosferico ed è tenuta sotto controllo dalle istituzioni europee. Gli Stati Uniti, dopo il 2008, capiscono che l'unico modo per rifinanziare questo debito, gli interessi sul debito, rappresentano il 40% delle trate fiscali americane. Allora come rifinanziare questo debito? Con iniezioni di liquidità. Queste iniezioni di liquidità che però vengono fatte, a cui concorre persino la Banca Centrale Europea, Draghi, con whatever it takes, queste iniezioni di liquidità però permettono anche alla Cina di costruire il capitale cloud, il capitale che c'è nelle imprese digitali, nel mondo digitale. E la Cina dal 2008 in poi inizia una crescita anche tecnologica diventando sempre di più il rivale strategico degli Stati Uniti. Ora qual è il terrore? Perché in tutte le società occidentali si dice che in Ucraina noi stiamo difendendo il mondo occidentale? Ci avete mai pensato? Al netto della propaganda. Al netto della propaganda. Lo capisce chiunque, no? Che i ragazzi, i giovani ucraini, stanno morendo in una guerra suicida contro una potenza nucleare, la Russia. Ma allora perché tutti, no? Ma politici, moderati, tutti, anche il nostro presidente Mattarella dice no, no, dobbiamo, l'Ucraina deve vincere contro la Russia, dobbiamo difendere l'Occidente. Ma semplicemente perché il dollaro è stato militarizzato e l'Occidente teme che la Cina possa fare quello che nel capitalismo viene fatto. Questo lo spiega molto bene un economista, Brancaccio. Cosa succede nel capitalismo? Che c'è un accentramento di flussi di capitale lì dove c'è maggiore potere economico. E la competizione strategica tra Cina e Stati Uniti è stata vinta dalla Cina. Quindi la Cina potrebbe riversare i suoi profitti invece che per comprare le obbligazioni del tesoro americano come ha fatto finora potrebbe cominciare ad acquisire pezzi di economia statunitense. E quindi di fronte al pericolo cinese e degli emergenti tutti che si stanno organizzando cosa fa l'Occidente? Cerca di governare questa tendenza? Cerca di trovare un compromesso? Perché l'unico possibile compromesso sarebbe guarda io non ti ostacolo non ostacolo la tua crescita economica quindi non rinnego il capitalismo perché se lo vedete oggi si rinnega la concorrenza si rinnegano gli investimenti diretti si rinnega il libero scambio questi sono stati i principi della nostra società occidentale ma siccome abbiamo perso la competizione con la Cina cerchiamo un protezionismo le tariffe e niente meno abbiamo analisti che glorificano le tariffe cioè il protezionismo era esecrato era esecrato era biasimato ve lo ricordate Mario Monti in Europa? La concorrenza bisognava difendere la concorrenza perché la concorrenza fa economia di scala perché la concorrenza è a favore del consumatore beh, abbiamo dimenticato questo Vangelo e quindi diciamo che ci dobbiamo proteggere dalla Cina e in questo modo salviamo l'occupazione non è niente vero come Mario Monti sa benissimo e predicava in Europa noi non salviamo l'occupazione salviamo la mancanza di competitività strategica dell'Occidente e quindi importiamo inflazione innanzitutto e costruiamo un mondo molto più povero per i nostri figli ma questo non si può dire ormai il protezionismo va bene no? la Jelen o Blinken vanno in Cina e dicono ah 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 tu produci troppo eccedenza di capacità hanno detto naturalmente i cinesi sorridono cosa devono fare quando gli occidentali dico no no sei diventato troppo bravo ci andavi bene quando producevi manufatti ma ora che ti sei specializzato in tecnologia ora che fai macchine elettriche più efficaci di quelle che riusciamo a fare noi e a prezzi inferiori noi ti mettiamo una tariffa protezionistica tale che non puoi più venderci le tue macchine vi rendete conto come questo porta a uno sfascio dell'economia mondiale comunque la cosa fondamentale è che gli Stati Uniti non hanno nessuna intenzione di governare queste tendenze e potrebbero poi semmai ci possiamo io nel libro accenno accenno a come governare queste tendenze come fare un compromesso con la Cina in cui la Cina per avere il libero scambio può accettare che il suo surplus abbia una regolamentazione non del mercato capitalistico perché se ce l'ha del mercato capitalistico la Cina comprerà parti della nostra economia però potrebbe invece continuare ad accettare un sistema internazionale basato sul dollaro e Pechino all'inizio non aveva nessuna intenzione di sostituire il dollaro è stata la postura occidentale che è una postura aggressiva sono stati di guerre è stato il sequestro dei quasi 300 miliardi russi che ha fatto sì che nei BRICS accelerasse l'idea di liberarsi del dollaro e allora l'Occidente come risponde a questo processo? risponde militarizzando il dollaro semina instabilità e decide le guerre la guerra come panacea e rispolvera miti antichi io credo noi vedo che purtroppo non ci sono molti giovani siamo tutti più o meno della stessa età quindi noi ci ricordiamo che la cultura antifascista che è nata nel secondo dopoguerra parlava di pace abbiamo l'articolo 11 della Costituzione che ripudia è un verbo molto forte ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e invece oggi che cosa ascoltiamo? una retorica vetticistica in cui non si può più dire che c'è bisogno di mediazione tra Ucraina e Russia no, c'è bisogno di una pace giusta una pace giusta non c'è mai stata la pace riflette la situazione di forza sul campo militare e riflette questa è la carta diplomatica un compromesso tra interessi geopolitici opposti come possono essere quelli dell'Ucraina e della Russia ma noi questa carta diplomatica non la vogliamo giocare tanto è vero che diciamo che la Russia non è uno stato no, la Russia è diventato il regno del male voi sapete che i sovietici quando c'era la guerra fredda quando c'era il comunismo ma la leadership americana non si sarebbe mai permessa di utilizzare nei confronti dei sovietici i termini che vediamo oggi macellaio killer ma ve lo immaginate Kennedy che aveva un filo diretto che scriveva le lettere a Khrushchev per risolvere le crisi internazionali la crisi di Cuba che chiama Khrushchev ma neanche Brezhnev macellaio invece oggi siamo arrivati alla demonizzazione della Russia quindi la Russia non ha più interessi strategici non ho la Russia è il paese cattivo che vuole arrivare fino a Lisbona vuole prendere tutta l'Europa beh se vi ricordate quando c'era la guerra in Vietnam la retorica diceva che bisognava andare in Vietnam perché altrimenti i comunisti sarebbero arrivati a Los Angeles insomma la propaganda è sempre esistita e la propaganda la sentiamo oggi ma quello che è preoccupante è che oggi viene risputata fuori una retorica colonialista cioè noi occidentali portiamo la pace e la democrazia gli altri cioè il resto del mondo il resto del mondo che alle Nazioni Unite vota per il cessate il fuoco in Palestina il resto del mondo sono le autocrazie quindi i cattivi e quindi noi dobbiamo fare la guerra perché Israele si deve difendere dagli islamici dai cattivi da mass come se il conflitto israelo-palestinese fosse nato il 7 ottobre e non prima è un secolo che dura un secolo è come se la guerra tra Russia e Ucraina che poi una guerra per procura tra Russia è nato fosse nata nel 2022 e non molto prima nel libro la faccio risalire al 1997 però forse mi devo fermare sto parlando troppo sì magari parliamo lucido che c'è spesso magari parliamo dell'impatto dei Neocon quando arriva il momento di parlare di Ucraina no ma avremo mille opportunità per farlo invece volevo chiedere a Murad quanto c'è stata un'affermazione dell'ex commissario agli esteri dell'Unione Europea Joseph Borrella adesso è ancora in carica ma è già stata diciamo presentata e sarà probabilmente sostituito dalla Kaya Callas dal primo ministro Estone anche lei bella passatemi il termine guerra fondaia Borrell disse che c'è un mondo quello occidentale che è un giardino e fuori all'esterno di questo mondo dorato nel quale vivono vive circa un miliardo di persone c'è la giungla allora ti chiedo Murad tu in teoria tu sei angelino tu vivresti nella giungla fondamentalmente no? come ti senti lì nella giungla e soprattutto quanto questi progetti esterni alla visione occidentale i BRICS lo SCO quindi l'organizzazione per la coerazione Shanghai l'unione euroasiatica quanto questi progetti sono effettivamente secondo te dei rimedi per gran parte della popolazione mondiale rispetto a un approccio chiamiamolo così egemonico di un solo paese appunto rispetto alle loro economie alle loro vite alle loro società ma nessuno ormai prende sul serio queste dichiarazioni ogni tanto si esce uno sta nella giungla l'altro dice perle che leggiamo utilizzo un paragrafo del libro dell'ambasciatrice per dire che all'inizio della guerra in Ucraina il presidente francese Emmanuel Macron che è molto attento che ha gestito la pandemia il 25 febbraio ha dichiarato è finita la globalizzazione perché ovviamente se vedete oggi chi è che applica le sanzioni contro la Russia sono 30-40 paesi tutto il resto del mondo non li applica per due motivi innanzitutto la Russia che è un grande paese è un fornitore a tanti paesi che hanno problemi di carestia di grano poi abbiamo avuto la pandemia dove la Russia ha fornito gratis prima della guerra i famosi vaccini quindi ogni paese ha capito che d'ora in poi non c'è più il mondo globale ma esiste ognuno deve fare i propri interessi e questo spiega perché subito dopo l'inizio della guerra due delegazioni cioè l'aiga araba l'unione africana il gruppo dell'america latina hanno mandato sia a Kiev che a Mosca delle delegazioni ai loro ministri degli esteri per proporre delle vie cioè delle vie d'uscite diplomatiche dicendo noi offriamo la via diplomatica che è la più adatta per la risoluzione di due paesi che comunque anche fra 30.000 anni saranno sempre vicini la Russia e l'Ucraina sono legati da una storia antica e saranno sempre vicini di più non ci dovete chiedere nessuna sanzione noi non ci vogliamo lasciare coinvolgere in guerre e anche nel concetto che per avere per risolvere dei conflitti si abbandona la via diplomatica dove l'Italia ha svolto ruoli per 50-60 anni e non abdichiamo a questo nuovo concetto secondo il quale c'è il bene dalla parte normale vi va bene ok altrimenti rappresentiamo il famoso Sud Sud che oggi è composto da 160 paesi addirittura c'è un paese come il Messico che è attaccato agli Stati Uniti e che ha le stesse posizioni di questi gruppi dove troviamo il Brasile troviamo la Cina troviamo la Sud Africa e quindi nel libro dell'ambasciatrice la guerra in Ucraina seguita da poco dalla guerra in Palestina segna un spartiacque nei rapporti internazionali o miracolosamente riusciamo a recuperare un minimo di punti comuni e riconoscere o dare un po' più importanza alle Nazioni Unite per avere una gestione comune dei conflitti e non fare questo face to face guerra sempre per conflitti l'ambasciatrice ha citato il Sudan pochi sanno che siamo a 800.000 morti in Sudan da due anni e non vi dico chi sono i paesi che forniscono i due belligeranti perché avreste mal di testa allora la guerra in Ucraina ripeto ha segnato la fine di una forse di un'illusione gli Stati Uniti hanno ricevuto un messaggio chiaro da parte dell'altro mondo capeggiato da Russia e Cina se ci mettiamo d'accordo che il mondo lo gestiamo tutti insieme ok l'unilateralismo statunitense che ogni tre anni ci fa una guerra prima la Libia poi la Siria poi prima la Bosnia la guerra in Jugoslavia poi il famoso conflitto permanente in Iraq dove il fallimento è totale in Afghanistan senza avvisare gli alleati tra i quali l'Italia si decide di uscire dall'Afghanistan lasciando il paese ai talebani questa gestione deve almeno secondo l'altro mondo quello che diceva Borel la giungla deve finire almeno non avranno il sostegno dell'altro mondo che o si astiene o si oppone quindi l'altro mondo non ha voglia per esempio di opporsi all'Occidente o di scontrarsi all'Occidente ma lo invita a rivedere questa logica di scontro perenne e di aderire a un multilateralismo dove tutti contribuiscono a tanto i conflitti sono una decina non un centinaio se c'è buona volontà si riesce ad avere un paese un mondo pacificato e rasserenato altrimenti l'ambasciatrice scriverà presto la seconda versione del libro Scontro Permanente grazie è sempre che purtroppo da 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 Pristina dalla dalla Serbia dal confine tra Serbia al Kosovo fino a Taiwan ci passano più o meno 10.000 chilometri e in questi 10.000 chilometri sono stati disseminati in questi anni dei conflitti pronti ad innescare c'è tutta una serie di da Serbia a Kosovo abbiamo la Transnistria l'Azerbaijan cioè ci sono tutte mine pronte a saltare e questo è il grande pericolo di una guerra globale non pensiamo solo che c'è l'Ucraina la Palestina e forse Taiwan tra qualche mese tra qualche anno volevo chiedere all'ambasciatrice lei scrive che le dottrine strategiche degli Stati Uniti e conseguentemente quelle della Nato teorizzano la necessità di una guerra contro il nuovo regno del male Russia e Cina che si afferma sono in grado di minacciare le democrazie occidentali indebolire la Russia è la prima tappa la prima tappa di un piano molto più vasto che include la Cina e la contesa per Taiwan allora le chiedo quanto dobbiamo e che cosa dobbiamo temere con l'arrivo eventualmente di Trump che sembra molto probabile alla Casa Bianca perché molti temono che sì forse il conflitto in Ucraina verrà messo in Naftalina forse ma c'è il fronte del sud-est asiatico che potrebbe incendiarsi qual è il suo punto di vista? ma in effetti io vorrei però richiamare l'attenzione su una cosa che poi è stato il motivo per il quale ho voluto scrivere questo libro perché a me sembra a volte di vivere una contraddizione incredibile cammino per le strade e vedo che siamo tutti spensierati fortunatamente consumiamo mangiamoci mangiamo un bel gelato e raramente si pensa al fatto che degli studiosi quindi delle persone che sono lì per calcolare il rischio di un conflitto nucleare questi studiosi hanno voluto spostare le lancette dell'orologio dell'apocalisse voi lo sapete siamo a 90 secondi dalla mezzanotte ora la cosa divertente è che molta nella discussione che viene di solito offerta in televisione o nelle radio si dice ma no ma non scoppierà mai la guerra nucleare perché Putin mica la farà scoppiare allora vedete innanzitutto vi faccio capire la contraddizione Putin è stato considerato un pazzo che un giorno si è svegliato e ha fatto la guerra in Ucraina però questo pazzo è diventata l'unica nostra risorsa lui non butterà la bomba ora come hanno sempre detto gli storici quando si entra in guerra si entra con determinate aspettative c'è questo libro meraviglioso di Huxley il mondo di ieri e poi c'è Stesan Zweig che parla dell'inizio della prima guerra mondiale dopo l'uccisione del Duga a Sarajevo e dice che tutti erano assolutamente normali facevano picnic sui prati e le stesse potenze entrano nella prima guerra mondiale pensando che sarà una guerra di pochi mesi va bene quindi si sa che la guerra è una variabile indipendente e che l'escalation militare è qualcosa che va al di là delle intenzioni di coloro che fanno la guerra una cosa è certa durante la guerra fredda se un capo di stato avesse detto mandiamo le nostre truppe per far la guerra in Europa contro l'Unione Sovietica lo avrebbero internato cioè sarebbe stato inconcepibile oggi invece questo avviene e l'opinione pubblica è assuefatta e silenziosa i ragazzi vedo finalmente un giovane i ragazzi che se scoppiassi una guerra sarebbero i primi le prime vittime come i diciottenni ucraini centinaia di migliaia di giovani ucraini vogliamo sentire le casalinghe le mamme ucraine se sono contente di aver perso un figlio perché per salvare l'Occidente o per non dire a Putin sì l'Ucraina può essere neutrale come l'Austria come la Svizzera ma come vi sentireste voi se vi avessero costretto a mandare il vostro figlio a morire perché perché un paese non può essere neutrale non perché un paese è attaccato dalla Russia questa è una menzogna perché la Russia fino all'ultimo lo dice Stoltenberg mi ha inseguito Putin mi ha inseguito fino al dicembre 2021 per non invadere l'Ucraina per dire mettiamoci a parlare la mia richiesta è quella di sempre quella del 2007 l'Ucraina non può entrare nella Nato questa era la richiesta che l'Occidente per il bene dell'Ucraina naturalmente non ha voluto accettare bene i neoconservatori ritorno vedete mai come oggi la politica estera è stata dipendente dalla CIA dal Pentagono da tutte le agenzie di sicurezza americana ve ne dico una National Endowment for Democracy questa è un'altra agenzia di sicurezza che esporta la democrazia e come la esporta finanziando ONG che cominciano a destabilizzare le società è successo in Ucraina la prima rivoluzione arancio poi c'è stata un'accelerazione e l'accelerazione ha portato al colpo di Stato nel 2014 ed è lì che la Russia ha annesso la Crimea poteva fare diversamente non lo so perché in Crimea c'è la base di Sebastopoli e poiché la Nuland vice segretario agli affari asiatici era Kiev a decidere i membri del governo vedete nel libro io non grazie a me perché io mi abbevero a una letteratura che comincia con Henry Kissinger con Sergio Romano con Mia Scheimer che è un politologo un professore all'università di Chicago le mie fonti sono solo occidentali e provano l'escalation che c'è stata in Ucraina voluta determinata dall'Occidente ora ho citato le agenzie che sono i protagonisti della politica estera americana il blob viene chiamato gli addetti alla politica estera americana i neoconservatori quando nascono i neoconservatori nascono nel momento in cui con l'unipolarismo gli Stati Uniti si sentono liberi di non rispettare le regole che avevano inventato loro nel secondo dopoguerra Nazioni Unite OSCE Consiglio d'Europa tutto il multilateralismo l'ordine liberale è stato creato dagli Stati Uniti però con la fine dell'Unione Sovietica gli Stati Uniti diventano sciolti da ogni vincolo e infatti cosa abbiamo? le bombe a Belgrado a cui collabora purtroppo anche la nostra sinistra D'Alema politico che io ho sempre stimato non può non partecipare a questa operazione non perché lui ne fosse almeno credo la speculo ne fosse convinto ma perché nel 99 ormai nell'età dell'unipolarismo non c'è più possibilità di una politica estera europea però ancora devo dire una dialettica in ambito nato c'è nel 2003 invasione dell'Iraq sulla base delle menzogne armi di distruzione di massa che non hanno mai trovato che non esistevano bene la Germania la Francia il Belgio si sfilano quindi era ancora possibile dire no nel 2003 ma poi diventa impossibile perché i neoconservatori americani decidono che non ci può essere nessun paese che possa ribellarsi agli interessi giostrategici americani difesi con la forza e quindi abbiamo una serie di guerre di instabilità abbiamo l'Afghanistan non sono riusciti a vincere una guerra contro i talebani voi ci credete evidentemente la guerra serviva in sé come ha detto Julian Assange il Cristo il prigioniero del secolo nei suoi cable ci sono tante rivelazioni che sono state utili e fondamentalmente la guerra serve al finanziamento del debito quindi può essere una guerra che dura vent'anni come in Afghanistan e non consegue nessun obiettivo strategico perché gli Stati Uniti si sono ritirati e ora abbiamo i talebani al potere Iraq paese fallito sono stati elencati prima ma la Siria la Siria non che Assad sia un angelo ma è ovvio che l'America è entrata in Siria per destabilizzare buttare giù il regime e sarebbe stato migliore il successivo ma so solo che la Russia è intervenuta e ha impedito questo e poi la Libia noi ne abbiamo fatte le spese la Libia paese fallito e se voi leggete la dichiarazione del G7 questo per farvi capire come il linguaggio sia orvegliano sapete Orwell 1984 questo libro magnifico cioè il linguaggio può affermare A e il contrario di A e questo di fronte a tutti non ha importanza non ha nessuna importanza e infatti cinque frasi sei frasi l'Occidente tiene alla stabilità della Libia ma come avete buttato giù un regime ci avete portato a uno stato fallito che ora ci manda i migranti eppure ti metti alla stabilità della Libia ma questo con tutto lo fanno allora Trump un'altra volta Trump io Trump non è my cup of tea a me non piace né Trump né tantomeno Biden auspicherei un'America differente se pensiamo che questa democrazia è la democrazia il fiore all'occhiello dell'Occidente ma insomma ma ci rendiamo conto ma li vedete i dibattiti insomma tra i repubblicani storicamente questo bisogna riconoscerlo i repubblicani non hanno mai portato alle guerre dei democratici c'è uno spirito pragmatico che caratterizza i repubblicani e Trump ce l'ha sarà da certi punti di vista un politico senza nessuno spessore morale ma perché Biden ha spessore morale non credo e comunque diciamo è un politico che ha i suoi lati secondo me ripugnanti come tanti altri ma probabilmente in Ucraina tenderà a un compromesso in Ucraina tenderà a non dare più a non dare più i miliardi all'Ucraina ve lo ricordo ma del resto vedete c'è una cosa strana perché coloco che sono i fascisti ultimamente sul fatto ho scritto che quando ero a Budapest Orban salì al potere e devo dire che mi fece paura quelli erano i miei tempi d'oro cioè io mi mi immedesimavo nella maggioranza ero una federalista europea ero il funzionario vicario in ambasciata ed avevo molti amici tra i liberali ungheresi e i socialdemocratici che persino fisicamente sono diversi perché sono alti e di origine austriaca mentre Orban rappresenta l'Ungheria profonda la campagna la pusta e ha portato con la sua alleanza con la chiesa diciamo la verità un discorso che richeggiava i tempi fascisti io ero invitata ai ricevimenti vedevo più prelati potentissimi che l'AI ci faceva un po' impressione però devo dire Orban come presidente dell'Unione Europea mi ha fatto una cosa meravigliosa finalmente abbiamo visto un'Unione Europea che agisce cioè è andato in Ucraina è rimasto un po' perplesso nello stringere la mano a Zelensky e devo dire questo lo dico e speriamo che non vengo uccisa dai servizi segreti ucraini francamente anch'io come Berlusconi non riuscirei a stringere la mano a Zelensky ma lo sapete perché? perché penso a quelle madri perché penso ai ragazzi ucraini e penso che la classe dirigente ucraina ha svenduto il proprio paese a interessi non ucraini a interessi degli Stati Uniti allora Putin certo anche Putin massacra i ragazzi russi però c'è una differenza perché questa è una guerra esistenziale per la Russia cioè la Russia e questo lo dico lo provo nel libro Putin ha tentato fino al 2014 di inserirsi nella governance economica europea ha bussato alla porta degli occidentali il suo blocco il blocco sociale e politico che sostiene Putin è fatto di persone che si sono arricchite con i commerci con l'Europa allora quando ha dovuto scegliere con l'invasione della Crimea ha capito che stava rischiando ma di brutto e infatti i nostri analisti anche i migliori dicevano che c'era un chiaro rischio di caduta del regime però se avesse chinato la testa avrebbe rinunciato alla sovranità della Russia e da quando il mondo è mondo la teoria politica insegna che uno Stato non può rinunciare alla propria sovranità del resto la Rand Corporation e lo stesso consigliere di Zelensky dicevano apertamente che la guerra doveva essere fatta per un regime change e per lo smantellamento della federazione russa quindi Trump forse con suo spirito pragmatico farà la pace in Ucraina e Orban nonostante io non ammiri il suo conservatorismo alcuni tratti di un regime clerico fascista però ha fatto qualcosa di meraviglioso è andato a parlare con Zelensky e con Putin ed è stato criticato da tutta la stampa progressista odierla io voglio farlo dal nostro pubblico quanti di voi sanno che un accordo di pace al conflitto russo-ugraino un accordo di pace è già stato trovato nessuno un accordo di pace un accordo di pace è già stato trovato è stato trovato due mesi dall'inizio dalla guerra nel 2023 il cancelliere del disco Shredder l'ha raccontata questa cosa Shredder in un'intervista al berliner Z-Tighton scusate lo lo disse alla fine del 2023 nessuno gli diede davvero attenzione poi è successo che qualche mese fa una think tank internazionale foreign affairs l'ha riproposta la notizia l'accordo era stato trovato i punti su cui l'accordo fu trovato sono quelli che grossomodo prima ha elencato l'ambasciatrice la neutralità dell'Ucraina quindi il fatto che la NATO rimanesse fuori dall'Ucraina due lingue differenti per le autonomie dei paesi delle regioni degli oblast russi o dei russi etnici quindi il Donbass il Lugansk e poi c'erano altre questioni all'interno di questo accordo di pace allora io vorrei chiedere veramente se riuscite in un minuto perché poi passiamo agli altri temi del libro chi è che non ha voluto questo accordo di pace cioè chi è che non ha voluto questo accordo di pace che era stato trovato due mesi dopo dall'inizio del conflitto scusa Max c'è una dichiarazione ufficiale di due leader europei uno è ancora in vita e anche François Hollande per la Francia e Angela Merkel per la Germania gli accordi di Minsk noi non abbiamo mai voluto un accordo far arrivare a una conclusione prendevano solo tempo per consentire all'Ucraina di armarsi di armarsi queste sono dichiarazioni del presidente francese e della cancelliera tedesca quindi uno che non è né ucraino e che non è russo sente queste dichiarazioni mentre ogni volta che vedevamo un vertice del processo di Minsk il mondo intero era speranzoso che si arrivasse a una soluzione o è una presa in giro non lo so quando i due principali diciamo con le Nazioni Unite Ucraina e Russia ti dicono che non eravamo sinceri prendevamo solo tempo per armare l'Ucraina quindi uno a destrarla le cascono le braccia però mi piacerebbe che l'abbasciatrice provasse a spiegare chi è che non ha voluto la pace se riesce ma ormai è noto Zelensky la delegazione di Zelensky aveva accettato la pace quindi si era arrivato a un compromesso un compromesso molto migliore di quello che ci potrà mai essere perché Putin aveva detto che l'Ucraina si poteva avvicinare all'Europa però doveva salvaguardare anche degli interessi economici con la Russia e che lui si sarebbe ritirato dal Donbass se in queste regioni ci fosse stata l'autonomia linguistica e regionale va bene quindi un accordo meraviglioso Johnson si precipita a Kiev e impedisce questo accordo in effetti perciò io nel libro risalvo al 1997 questa guerra è voluta con una strategia coerente dagli angloamericani l'Europa continentale si oppone fino al 2008 ancora possiamo dire nel 2014 la Germania cercava di salvare un modello di sviluppo economico dopodiché ormai l'Europa è polanca abbiamo sposato le paranoie dei nordici dei baltici della Polonia la russofobia e abbiamo appoggiato una guerra che nel libro sono elencati che favorisce solo gli interessi statunitensi e ce ne stanno tanti economici energetici geopolitici mentre l'Europa non guadagna nulla l'Europa è affossata insieme alla Germania oggi in recessione un solo dato per corroborare queste ultime parole dell'ambasciatrice prima della crisi finanziaria del 2008 il prodotto interno lordo che non è senz'altro il miglior indicatore dello stato di saluto di un paese però il prodotto interno lordo dell'Europa unita era di circa il 10% superiore di quello americano prima del 2008 oggi la differenza del prodotto interno lordo americano europeo è a favore di quello americano dell'80% c'è stato un trasferimento di benessere mostruoso mostruoso e naturalmente di perdita di benessere da parte dei paesi dell'Unione Europea io mi soffermerei ancora sul conflitto russo-ucranio perché ci riguarda come conseguenze da vicino però capisco che abbiamo ancora poco tempo a disposizione e allora vorrei parlare di un altro capitolo del suo libro del conflitto israelo-palestinese un aspetto direi molto interessante che lei sottolinea in questo capitolo riguarda l'impunità di Tel Aviv davanti a questo massacro di civili che è portato avanti dal 7 ottobre però diciamo che va avanti da decenni però più in particolare dal 7 ottobre allora le chiedo come riusciamo a giustificare quello che sta accadendo siamo arrivati quasi a 40.000 vittime a Gaza come lei è riuscita a intendere che riusciamo a giustificare quello che sta accadendo a Gaza soprattutto alla luce del fatto che è vero Israele ha il diritto di difendersi ma qui stanno arrivando delle notizie settimana dopo settimana che ci fanno anche rileggere quello che è accaduto il 7 ottobre l'ultima è l'articolo di Arez di ieri che dice che in realtà gran parte delle vittime di cui abbiamo parlato finora sono state fatte dalle stesse israeliane il 7 ottobre beh sì come vedete non se ne parla neanche più hanno fatto una specie di teatrino il gioco delle parti Blinken Biden i buoni quelli che rispettano i diritti umani hanno detto beh sì Israele deve stare attento non deve fare troppe vittime beh no le incursioni a Rafa non sono possibili e no i coloni non devono ammazzare i palestinesi bene dopo aver detto questo hanno votato contro il cessato del fuoco anzi l'Europa si è un po' divisa almeno la Spagna almeno il Belgio l'Irlanda mi sembra persino nella quando c'è stata il cessato il fuoco come tregua umanitaria ma lì anche Francia e Germania hanno votato sì la invece noi noi no l'Italia no e gli Stati Uniti naturalmente no quindi diciamo la verità evidente l'Occidente è complice di quello che la Corte Internazionale di Giustizia una istituzione delle Nazioni Unite ha considerato un genocidio plausibile in questo io lo so idee un po' diverse mi sembra da Marco Travaglio che sapete stimo moltissimo e che ringrazio perché mi dà uno spazio importante sul suo giornale però ecco la Corte Internazionale di Giustizia quando il problema del genocidio è stato portato dal Sudafrica non poteva visto che il litere è lungo stabilire subito sì si tratta di un genocidio quindi ha dovuto prendere il tempo ma già il fatto vi abbia invitato Israele a non a mettere in in piedi tutti gli strumenti possibili per evitare di affamare la popolazione di trucidare civili e soprattutto donne e bambini vuol dire che e di ritornare alla Corte come accusato questo è stato una grande una cosa importantissima che è successa Israele ritorna come accusato a riferire su come deve fare per non attuare il genocidio questo è importante dal punto di vista simbolico politico non è importante nella realtà perché finché gli Stati Uniti continueranno a dare le armi a Israele Israele continuerà i massacri oggi non ne parliamo neanche più queste cifre sono molto sottostimate perché pensate semplicemente quanti bambini siamo arrivati? saremo sopra i 16.000 se non sbaglio ma pensate ai bambini dispersi ai bambini che agonizzano sotto le macerie non ci sono ospedali non ci sono le regole di igiene minima sono affamati c'è la fame pensate quanti morti pensate cosa si scoprirà forse dopo bene gli Stati Uniti continuano a dare le armi a Israele io nel libro ricostruisco tutto il conflitto che è un fallimento della diplomazia internazionale con responsabilità diffuse però non c'è niente da fare la destra messianica israeliana la destra il Likud questo Israele che io non credo sia stato sempre lo stesso io penso che agli albori il sionismo avesse pure una giustificazione perché un popolo martoriato una diaspora martoriata ha pensato con uno Stato noi fuggiremo saremo più forti fuggiremo non saremo martiri ci rifuggeremo in uno Stato però poi lo sapete Israele è nato col terrorismo ebraico la cosa divertente i Chiure sono sbalorditi di fronte al terrorismo di Hamas ma loro hanno creato Israele col terrorismo terrorismo contro i britannici e col terrorismo contro i palestinesi 1948 l'anno dell'indipendenza di Israele e da una parte è vero è bello quando vedevate gli ebrei che celebravano c'era qualcosa di bello in quel popolo che realizzava un sogno però subito anzi prima dal 47 in poi si ha la Nakba la catastrofe cos'è la catastrofe palestinese 700 persone anziani 700.000 persone anziani bambini lasciano le loro case lasciano le loro terre e perdono una classe dirigente e inizia il problema dei profughi e quindi visto che non c'era politica inizia anche il mito della guerra armata come salvezza dei pari a del mondo di chi è dimenticato dalla storia questo c'è sempre stato ricordo sempre Andreotti no? Andreotti che diceva se io non un subversivo Andreotti diceva se io non nascessi in un campo profughi anzi se io nascessi in una prigione a cielo aperto Gaza 2005 inizia l'assedio di Gaza e non potessi non potessi cambiare la sorte per i miei figli io diventerei un terrorista ma oggi ci scandalizziamo di fronte ad Hamas e la comunità internazionale ha interrotto ogni negoziato consapevolmente dal 2007 in poi per risvegliarsi solo il 7 ottobre e Hamas ha già vinto Hamas ha vinto una battaglia non sono una sostenitrice di Hamas anche se qualora Hamas uccidesse solo le forze israeliane sarebbe giustificata dal diritto omusiano in quanto organizzazione per la liberazione di un popolo sotto occupazione purtroppo Hamas uccide anche i civili e nel momento in cui si uccidono civili lo sta facendo l'Ucraina con i civili russi probabilmente l'ha fatto l'Isis con l'attentato mostruoso a Mosca ma un Isis solo o un Isis con uno zampino esterno punti interrogativi comunque quando si uccidono i civili si fa terrorismo e questo è terribile e quindi Hamas è un'organizzazione terroristica però rispetto al terrorismo di Stato di Israele ma è tutta un'altra cosa Hamas gli schiavi quando si rivoltavano cosa facevano? Atti di barbarie terribili e noi per questo difendiamo dice sì allora è giusto che sono schiavi ma no tutti no abbiamo difeso la liberazione dalla schiavitù ma le rivolte degli schiavi erano di una violenza e di una brutalità senza limiti e ora dobbiamo vedere i partiti televisivi in cui il mite cazzullo no mi è simpatico cazzullo però mi piace questa espressione mite cazzullo perché è così che tutta la stampa lo ha chiamato il giorno dopo e Paolo Mieli per il quale ho veramente grande stima perché a volte dimostra cultura eleganza ironia però io rimango estero fatta perché il mite cazzullo e Paolo Mieli sembrano scandalizzati di fronte al terrorismo di Anassa quando il terrorismo è una componente della storia questo significa che Israele non deve difendersi? no Israele deve difendersi ma mirando ai terroristi non uccidendo 16.000 bambini questo anche un bambino lo capisce allora siamo svegli ancora possiamo andare avanti dieci minuti magari il tempo di parlare di giornalismo anche per prima perché l'umora dovreste aggiungere due minuti un'altra vittima che è citata nel libro è che delle donne coraggiose come Francesca Albanese e alla stessa ambasciatrice Elena Basile per dire delle evidenze che 30 40 anni fa il presidente Sandro Pertini Giulio Andreotti hanno sempre detto tutti uomini coraggiosi Olof Palme ucciso Saramago premio Nobel Jean-Paul Sartre che tutti parlano di due paesi due stati due popoli uno esiste l'altro non esiste questa è la prima definizione la seconda che abbiamo visto sullo spondo di questa guerra in Palestina a me signora ambasciatrice mi sono rimaste le ragazze di 14 anni di Iele Columbia aggredite con una selvaggia cioè da da poliziotti 100 cioè due metri 200 chili per quale motivo perché hanno detto che vogliamo la vita e la pace per i due popoli mai visto una cosa del genere cioè gli Stati Uniti hanno conosciuto le proteste del Vietnam le proteste per il Sud Africa dell'apartheid anche Corea cioè gli Stati Uniti come ha descritto l'ambasciatrice Basile è un paese dove c'è una società civile c'è gente che sempre si è battuto sinceramente per gli ultimi e ultimamente non c'è spazio per la come si dice una narrazione diversa questi giovani studenti non hanno voluto buttare Israele nel mare hanno voluto solo dire è ora dopo 70 anni dopo 80 anni che questa famosa frase che torna spesso due popoli due stati venga finalmente concretizzata concretizzata chiudiamo questa pagina triste invece abbiamo visto non solo degli Stati Uniti ma mi è rimasta quell'immagine di una bambina che avrà avuto 14 anni con una violenza cosa cosa teme l'establishment americano che nasca una nuova generazione di americani di europei che mi ricorda non so se vi ricordate il film indovina chi viene a cena stasera che la figlia le hanno insegnato che nasciamo tutti uguali poi lei come fidanzato porta sinne poichette di colore e allora erano Spencer Tracy e Kathleen e Burn erano un po' a disagio come facciamo a questa generazione di ventenni di Ida insegniamo che siamo tutti uguali che ci battiamo per i diritti di tutti che è vietato e disumano e anzi penalmente perseguibili a uccidere donne e bambini poi quando questi giovani vanno a protestare li meniamo e io questa novità nel conflitto israelo-palestinese vista dall'Europa perché anche in Germania sono stati malmenati a Parigi questa novità non si ha voglia di ascoltare questa nuova generazione che vuole cambiare il mondo non contro qualcuno ma per una soluzione ora andiamo a chiudere con due questioni molto molto interessanti la prima legata al ruolo di noi giornalisti nella narrazione delle guerre e la seconda invece molto molto interessante e qui dopo chiamerò in causa naturalmente l'ambasciatrice di questa piccola cherella che ha avuto con la senatrice Segre allora inizierei dal ruolo di noi giornalisti lì c'è Vincenzo Iurillo il sottoscritto Max c'è Murad immagino c'è Sabina qua davanti come ce le raccontiamo queste queste guerre come li raccontiamo questi conflitti e soprattutto si può deragliare dalla narrazione dominante e mantenere il posto di lavoro questa è una domanda molto molto importante perché vi assicuro che conosco persone che giornalisti colleghi giornalisti che fanno una fatica enorme a continuare a lavorare nelle relazioni dove lavorano perché non sono d'accordo con la linea editoriale del giornale per cui lavorano allora vuoi dire qualcosa mi chiede di parlare parlerò però penso che è molto difficile è una situazione molto complessa questa perché in molti paesi purtroppo i giornalisti non sono liberi e comunque devono fare ciò che vuole il giornale e se no si trovano per strada sì eppure l'editore assolutamente sì l'editore più che il direttore quindi penso che questo è un problema di dell'occidente dell'america io lavoro per la televisione americana e sicuramente non è facile andare contro i nostri editori questa è la realtà certo il discorso è sempre legato al tentativo di preservare l'interesse pubblico generale perché è ovvio che si influenza il dibattito in maniera diciamo così utilitaristica è impossibile poi a divenire una pace o quantomeno avvicinarsi appunto alla prospettiva di una pace allora volevo chiedere veramente perché poi chiudiamo e stiamo facendo tardi allora volevo chiedere sia Murad che è un giornalista sia l'ambasciatrice qual è il ruolo che sta giocando che stanno giocando i media in questo montare di retorica bellicistica io collaboro con con il mio giornale che è un giornale algerino in lingua francese poi collaboro con Al Jazeera collaboro con Dejvel Al Jazeera devo dire che da 15 anni non mi hanno mai censurato Al Jazeera il suo slogan è un'opinione e il suo contrario collaboro anche con canali francesi accetto anche di rispondere alle loro domande capisco se non sono stato gradito perché poi non mi chiamano più però poi quello lo metto lo metto in conto però io accetto di lavorare se mi è garantita la libertà di esprimere la mia opinione sempre su questa vicenda io basta mettere il mio nome cognome su internet sempre criticato la diciamo l'ostracismo innanzitutto dei governi verso la soluzione diplomatica l'ho messo e poi l'assenza di libertà di espressione l'ambasciatrice non deve essere ci devono essere 20-30 persone che rappresentano l'altra opinione che poi noi sappiamo andando a Roma troviamo la gente comune pensa al 90% come l'ambasciatrice cioè questo microcosmo mediatico le elite che se la cantano e se la suonano fra di loro dovete rappresentare non con uno spirito guerrafondaio ma la gente che non vuole né dare ragione all'uno né all'altro ma a dare ragione alla via diplomatica quindi io non ho per fortuna mia forse nessuna difficoltà a scrivere quello che penso forse perché appartengo a un mondo che sulla Palestina e sulla Russia si è sempre opposto alla politica del tanto peggio tanto meglio ambasciatrice lei ha dedicato un capitolo alla questione dei media eh sì perché se è vero che la propaganda è sempre esistita lo sappiamo abbiamo fatto prima l'esempio del Vietnam ma insomma negli Stati Uniti hanno sempre fatto una propaganda incredibile che nel libro parto addirittura dal problema della fabbricazione del consenso che inizia con la società di massa e c'è questa ideologia della classe dominante che la gente non sa qual è il bene comune e che quindi per convincere le persone bisogna fare propaganda e quindi probabilmente ci sono anche accademici politici in buona fede che indirizzano l'opinione pubblica verso quello che loro considerano il bene comune però quello che sta succedendo oggi è qualcosa di molto diverso perché c'è una concentrazione di media gli agglomerati dei media che risponde direttamente alla concentrazione della ricchezza voi sapete non noi a Davos si parla della società dell'1% esiste il mondo delle oligarchie che dominano completamente i media i media non rispondono neanche più ai governi i media lo spazio politico mediatico è un tutt'uno con le strategie delle oligarchie che dominano in occidente ora questa non è una tesi complottista noi lo sappiamo che il mondo è complesso sappiamo che non è che ci sono quattro persone che si riuniscono intorno al tavolo e stabiliscono tutto però esista una società dell'1% esistano delle oligarchie delle energie delle armi finanziarie a cui la stampa e i politici rispondono questo è un dato di fatto ma come si fa a negarlo e allora quello che a me preoccupa è che noi stiamo abbandonando il liberalismo delle democrazie occidentali cioè la libertà di pensiero e di espressione che poi in fondo sarà anche parte della nostra retorica ma è una componente delle nostre società è stata di fronte al silenzio di tutti violata basti pensare che tutti i media russi sono stati aboliti in occidente fino a poco tempo fa invece in Russia si vedevano ora c'è stata la reazione russa ma insomma comunque visto che noi diciamo che noi siamo la democrazia mentre la Russia è l'autocrazia beh come fa Borrell a dire che i media russi devono essere aboliti e chi stabilisce allora dov'è la libertà di pensiero cioè nel momento in cui il potere politico si arroga il diritto di dire ciò che la società civile può ascoltare il principio della libertà di pensiero è finito a me è meraviglia che questo non sia stato notato io adoro i discorsi del presidente Mattarella che difende sempre i principi della costituzione però sono rimasta meravigliata chi non abbia notato questa incongruenza parliamo di Europa e la stessa cosa io ero ancora ambasciatrice quando ascoltai per la prima volta la creazione di uffici contro la disinformazione e io subito sollevai il pensiero anche quando ero in servizio ero abbastanza coraggiosa e mi disse ma chi stabilisce qual è la informazione e qual è la disinformazione allora vogliamo dire che tutto quello che viene dalla Russia è disinformazione quello che viene dall'Ucraina è informazione cioè possiamo arrivare a contraddizioni di questo genere ecco io credo che il deficit democratico europeo oggi dovrebbe fare paura a tutti anche gli episodi che sono stati cabarettistici che mi sono capitati secondo me sono gravi solo perché io sono una persona innocua io non ho mire politiche io ormai sono una pensionata anche una donna di una certa età e mi hanno linciato come se io fossi veramente il nemico allora questo da una parte è un segno di debolezza terribile di questa narrativa occidentale dall'altra è qualcosa che sarebbe stato inconcepibile un tempo ma ve ne ricordate le tribune politiche immaginate i giornalisti di un tempo Giorgio Bocca e Indro Montanelli che linciano una donna ex diplomatica solo perché ha espresso un pensiero differente per cui questa deriva è preoccupante e dovremmo tutti stigmatizzarla dovremmo tutti ribellarci in fondo al libro c'è una nota dell'ambasciatrice ed è una nota nella quale se non sbaglio una nota che ho aggiunto poco mentre il libro stava andando in stampa era un intervento rivolto alla senatrice Liliana Segre l'ambasciatrice l'ha definito un malinteso che cosa è accaduto ve lo dico velocemente in un video pubblicato sui social l'ambasciatrice aveva detto sulla guerra in Medio Oriente cara signora Segre possibile che lei sia tormentata solo dal pensiero dei bambini ebrei era andata più o meno così e il figlio della senatrice Segre aveva poi successivamente annunciato una querela parlando di affermazioni diffamatorie e ingiuriose l'ambasciatrice nel libro ha voluto replicare con una nota le lascio ma io non ho avuto una querelle con la senatrice Segre io francamente sono stata querelata dalla senatrice Segre per istigazione all'odio e nell'ultima lettera che le rivolgo le dico che ne sono ancora esterrefatta guardate forse voi non volete credermi perché so che c'è anche un'insofferenza che cova nella società io proprio per evitare questa insofferenza che cova mi rivolgo in termini credo assolutamente rispettosi alla senatrice Segre perché in quel caso dopo il video io siccome mi fecero ascoltare io avevo letto un'intervista che mi sembrava molto parziale e quindi avevo mi ero rivolta alla senatrice Segre dicendo che così si incoraggiavano visioni sbagliate della comunità ebraica poi siccome mi avevano fatto vedere altre parti di dichiarazione della senatrice che diceva che non è vero che lei soffriva per tutti i bambini morti uccisi io dissi guardi io mi scuso non volevo oltraggiarla in effetti avevo avuto una lettura un po' frettolosa di questa intervista sulla Repubblica e mi asimai la stampa che a volte a me sembra utilizzi la senatrice per fini per una propria agenda e mi scusai purtroppo la senatrice non volle credere alle mie scuse e mi ha querellato e io ne sono esterefatta ma io non ho smesso di rivolgermi a lei questa è la terza volta che mi rivolgo a lei proprio perché io credo che solo quando si rispetta una persona che si parla e si affrontano quelle che per me sono problematiche reali cioè se la senatrice ma tanti altri illustri esponenti della comunità ebraica confondono l'antisemitismo con l'indignazione contro Israele per quel che sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania beh fanno molto male alla comunità ebraica perché così così nascono le tenebre così si fomenta la violenza e nell'ultima lettera quando la senatrice Segre dopo il saluto dei ragazzi di Fratelli d'Italia per carità io lì anzi chiederei alla Presidente del Consiglio di essere molto più determinata nello stigmatizzare questi saluti perché l'apologia di fascismo è reale quindi anche se scherzando un ragazzino fa il saluto itleriano beh deve essere espulso da un partito perché la cosa è grave e nei nostri principi costituzionali una Presidente del Consiglio non può assolutamente minimizzarla dicendo sì ma guardate che l'antisemitismo è anche a sinistra no 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 io non ci non sono d'accordo quell'antisemitismo lì fa parte di una cultura che storicamente è a destra l'antisemitismo l'antisemitismo è il termine usato impropriamente per descrivere i ragazzi i giovani che stanno vedendo una carneficina in a casa e insorgono contro Israele ora se gli ebrei non prendono distanza da Israele è chiaro che la rabbia come si rivolge a Israele e si rivolge agli esprei ed è male è ovvio che sia male però è inevitabile quando era come non lo so durante no ecco faccio un altro ma non mi querelano di nuovo no facciamo questo paragone ma è normale che si si associ a un popolo una una sopraffazione di uno stato che questo popolo lo rappresenta non è normale perché lo vogliamo giustificare io credo che gli ebrei non hanno niente a che vedere con quello che fa Israele tanti ma tanti Finkelstein Gideon Levi oltre che al mio amico Monio Vadia insorgono stigmatizzano e denunciano però quando la senatrice Segre dice vogliono farmi andare via da questo paese io mi sono permessa di dirle senatrice ma non le dica più queste cose perché questa è un'autocommiserazione che è un po' anacronistica nel senso che l'appartenenza alla diaspora ebraica io la chiamo gloriosa perché tanto umanesimo ci viene dall'intelligenza ebraica si può celebrare oggi chiedendosi chi sono gli ebrei di oggi ora la senatrice è onorata protetta da tutto l'arco costituzionale un'ex ambasciatrice sembrava che dovesse essere deportata in Italia tutto l'arco costituzionale si schierò contro di me per difendere la senatrice Segre e va bene così ma non può fare la vittima perché oggi gli ebrei del nostro secolo sono i palestinesi gli ebrei del nostro secolo sono i musulmani lì dove i partiti di destra hanno una rabbia antimusulmana quella da stigmatizzare gli ebrei di oggi come dice Emonio Vadia sono i rom che morivano nei campi di concentramento continuano a soffrire a essere discriminati e a essere dimenticati ora io parlo così alla senatrice Segre perché la rispetto e non la odio e mi dispiace che lei si chiuda al dialogo ma lei il figlio gli illustri esponenti della comunità ebraica dovrebbero parlare di tutto e soprattutto dovrebbero condannare Israele per far bene a questa società ma soprattutto alle comunità ebraiche sono le 10 i 20 ringraziamo i nostri due ospiti per essere stati con noi per averci espresso dei pensieri che mi auguro saranno da stimolo per riflessioni future non abbiate mai paura di pensare autonomamente è importante che lo facciate io lascio un attimo il microfono all'amico Vincenzo buonasera a tutti è il momento degli appelli dei ringraziamenti e sapremo due cose importanti la prima lo ricordiamo sempre c'è il banchetto dei libri di un po' di non è Grazie a tutti.